Padre Abate arriva un segnale forte con questa sua nomina, la nomina di un abate giovane voluto dal Papa e dalla comunità monastica. Sì, la comunità mi ha scelto, mi ha designato come suo abate e il Papa ha confermato questo desiderio della comunità, ha ratificato in un certo modo. Siamo a Montevergine una comunità abbastanza giovane e quindi un abate giovane rappresenta anche un motivo di speranza per il futuro, non solo della comunità ma della Chiesa tutta. In questo momento qui a Montevergine ogni anno arrivano migliaia di pellegrini, qui la speranza sta avvenendo meno, che cosa dire loro per continuare a guardare con speranza? Che come cristiani non dobbiamo perdere la speranza. Il cristiano non può essere pessimista. E' una cosa che mi disse tempo fa un monaco che ora è in paradiso, mi disse guarda se sei pessimista non puoi essere cristiano. E la speranza è una delle virtù. La speranza in un mondo migliore, la speranza in una Chiesa che si fa carico di tutte le problematiche della società di oggi e la speranza anche che questa comunità monastica continua a essere faro per migliaia di pellegrini. Possiamo sperare anche dunque che la funicolare magari riparta, si rimetta in moto, visto che da un paio d'anni è ferma. Lei, il suo pensiero su questo? Il mio pensiero è che mi auguro che la funicolare al più presto possa ritornare a svolgere il suo servizio per il santuario. Però, come ben sapete, noi siamo una parte marginale, anche se la società Lair tiene molto in considerazione anche l'opinione della comunità. Qui arrivano cittadini da ogni dove. Perché continuare a venire qui a Montevergine? Ritorniamo al discorso di prima. È sempre la speranza. Io penso che ogni uomo porta in sé la speranza, in un mondo migliore. E forse Montevergine per secoli ha dato questo segnale a tanta gente. Se noi andiamo a aprire i libri delle cronache di inizio secolo, durante le due guerre, vediamo come la gente veniva qua e si affidava alla Madonna. E ancora oggi, voi non potete immaginare quello che noi sacerdoti ascoltiamo all'interno delle confessioni. E la gente viene qua proprio perché ha bisogno di essere ringuorata per poter andare avanti. Chiudiamo con una speranza che magari anche Papa Francesco possa venire qui al santuario. Io non prometto niente. Ce lo auguriamo, come fele che no. Però io non dico niente su questo. Grazie. Grazie. Grazie.